Il pareggio di Cagliari suona come una sentenza. Il Napoli dice addio definitivamente alle posizioni in classifica che valgono la qualificazione in Champions. Il gol dei Sardi, maturato in modo assurdo a pochi secondi dal fischio finale, potrebbe lasciare il segno in una stagione davvero da dimenticare. La libertà concessa al difensore rosso-blu Dossena, libero di lanciare lungo verso l'aria azzurra e l'incomprensibile indecisione di Juan Jesus, che ha permesso all'uvumo di tirare in porta, sono ingenuità imperdonabili. Calzona dice che il problema è soprattutto mentale. Certo è che non si possono gettare al vento punti preziosi nel corso di una battaglia che stai vincendo. Una gara durissima indirizzata dal gol di Ozymen verso un risultato positivo. Gli azzurri hanno sbagliato l'occasione per raddoppiare e sono crollati nel finale, colpiti da un'amnesia difensiva sconcertante. Una brutta mazzata che i tifosi sicuramente non meritano. Ora, unico obiettivo, resta la sfida da vincere contro il Barcellona. Non sarà affatto facile.